Anche in Abruzzo entrano in azione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, i laboratori militari messi in campo dalla struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo per supportare le aziende sanitarie locali nella gestione del tracciamento in merito ai contagi da Covid-19 riconducibili all'ambito scolastico. Il potenziamento del test servirà a limitare il più possibile la didattica a distanza ed attuarla solo nelle classi in cui c'è il rischio che possa svilupparsi un focolaio, spiega il Tg8 l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verini. Arriva l'esercito nelle scuole per effettuare i tamponi, come vi siete organizzati e vi state organizzando? Sì, la regione Abruzzo aderisce a questa iniziativa della struttura commissaria diretta dal generale Figliuolo che ha messo a disposizione della nostra regione delle unità mobili che andranno presso gli istituti scolastici di tutta la nostra regione per un'attività di screening. Un'attività di screening finalizzata a portare avanti il più possibile un'attività didattica in presenza e non la DAD. Questo screening si attiverà attraverso test antigenici, invece attraverso i test molecolari dove si evidenziano dei casi positivi. Dal 16 dicembre sarà avviata la vaccinazione per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni per far fronte all'impennata dei casi Covid della quarta ondata che coinvolge soprattutto i giovanissimi under 12. Cosa si sente di dire ai genitori che ancora non sono convinti di voler sottoporre a vaccinazione anti-Covid i propri figli? Sì, dal 16 dicembre, così come è dettato dalle linee guida nazionale, anche l'Ambruzzo partirà, ci stiamo organizzando per questa campagna di vaccinazione dei bambini dei 5 agli 11 anni. Campagna di vaccinazione su base volontaria. I genitori che hanno dei dubbi, che vogliono avere maggiore informazione, potranno recarsi presso i propri pediatri di libera scelta con il quale abbiamo portato avanti un'interlocuzione per avere quelle risposte che loro cercano. Noi come aziende Ars stiamo strutturando dei setting adeguati per la somministrazione di questi vaccini che siano a dimensione proprio dei bambini e dove non ci possa essere nessun elemento traumatico ma una consapevolezza di una vaccinazione che senz'altro può ridurre i contagi.